Avete mai pensato alla vostra vita come un insieme di ricordi passati? L'oracolo della foresta è un antico metodo di divinazione ispirato alle memorie di Martha Elliot. Al tempo dei centi, gli alberi avevano una grande importanza nella società ed erano associate gli spiriti dei boschi e i movimenti della luna. Questo libro vi accompagnerà alla scoperta dei ricordi di Martha, reggente, donna, strega. Ascoltate la sua storia e scoprite qualche messaggio della sua memoria di quel tempo. Attraverso questo testo avrete la possibilità di ricevere un consiglio antico utilizzando le carte divinatorie e la meditazione per il passato, presente e futuro. Troverete all'interno anche un poster, un video scaricabile e le carte che vi aiuteranno nel vostro viaggio attraverso i mondi di Martha Helmut per arrivare a ritrovare un pezzettino di voi stessi che forse avevate pensato di avere perduto.